Una partita con Octane in tutta la stagione e 15-16 kill, forse è il caso di tornarci. Oggi signori si torna a tryhardare su Octane, ma raggiungeremo prima le 50.000 kill su Octane o i 100k su YouTube. Le 50.000 kill su Octane, lo so ma iscrivetevi qui sotto che delle kill su Octane non mi frega un cazzo degli iscritti su YouTube, sì, e voglio arrivare a 100.000. Commentini spammini di oggi, commentate qui sotto per finire nel prossimo video. Ragazzi, un bel mi piace che supporta questo video, lo spamma di più così tutti lo guardano. E niente, vi aspetto tutte le serie in live su Twitch, ho il link qui sotto, tra l'altro con la sub potete anche giocare insieme a me. Bella. Oddio, lo stesso random? Ah no, è vero. Grande! Ho piccato Octane a random perché mi sono ricordato che devi avere Vantage, va bene Octane. Chi è che nel 2022 c'è ancora LOL? Ma XD è peggio di LOL, fidati. XD è molto peggio di LOL. XD è peggio di LOL. Per i 100k sul tubo ho già in mente qualcosa, no. E raggiungiamoli prima. Stavo facendo un nuovo discorso. Purtroppo l'ho detto, i 100k sul tubo non dipende troppo da me. E faccio, figa, vado da Nico solo per vedere un film, a lei mi fa, e figa ci vai solo per un sushi. E ho detto, cazzo c'hai ragione. Ma sì, è vero. Però dobbiamo vedere come fare, ti ospito a dormire. Ma boh... Eh no, ma perché andare al cinema di pomeriggio è da sfigati. Cioè andare a vedere Avatar 2 il pomeriggio tipo e finire in tempo per tornare a Monza è da sfigati. Cioè al cinema si va di sera. E vediamo, magari io li guido, cazzo ne so... Ah sì, siete in macchina magari, è vero. Ma no, ma il cazzo, hotel, ma figa vi ospito in casa piuttosto che in hotel. Che cazzo è hotel. A casa di Nico facciamo... Mi ha craccato lui, io bianco. Capisco se è sopra o sotto. Craccato, preso, preso, preso. Sì, danni a Crypto, danni. Mottata 3 flash lui. Quello sotto? Sotto, sotto Crypto. Dietro Crypto, sì. Bastardo, camperato. C'aveva pure la skin che non vedevo nulla, oh. Dupido. C'aveva una skin che non vedevo una sega, non vedevo una sega. Il gioco, il gioco deve avere le botte per farmi farmare iscritti. Cioè purtroppo veramente... Purtroppo è vero, cioè oggettivamente, portando un gioco... Cioè Apex non lo faccio scoprire io alla gente. Salvo casi eccezionali, uno sul mio canale ci arriva perché conosce Apex. Cioè... Buono. In primis deve essere il gioco che va molto bene. 50 bianco. 8, 8, 8. Io tri-te, io tri-te, io tri-te, io tri-te. Sì, 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 là, là, là. One shot. Preso, preso, preso. Grande, grande, grande. Ma che grande cosa che ti sei rubato l'altro, dai. Ma non fare il clown almeno. Do più 47 l'altro. Cazzo, dici. Davanti a me, vado indietro, vado indietro, vado indietro. No, no, no. Lo so, lascio, ce l'ho. Oh, c'ho, c'ho, c'ho. C'è un full team qua, eh? Dove? Loro inseguivano un team, no? Non è che andavano a caso. Là dentro. Oh, il Newcastle, ok. Il Newcastle andava con lo scudo. Immagino andasse verso un team. Sono dentro, sono dentro, non sono fuori. Vi è piaciuta? Sì, bellissima. Cioè, immagino siano dentro. Ok, li vedi? 45. 46 lui, 46 lui. Preso, preso, preso. Il Mirage è stupidissimo. Io più di lui, però, minchia. Il Mirage è stupidissimo. E subito dopo procede nel sparare un caricatore intero all'esca. Incredibile. Mamma mia. Il Mirage è stupidissimo. Boom, ma fu il caricatore sull'esca, vabbè. Io Apex lo conoscevo già, però a novembre 2019 mi ero rotto le palle di Fortnite e scrissi su YouTube Apex Legends City. Il primo video che mi comparve fu il tuo. Sì, ok, ma allora così comunque tu Apex lo conoscevi, cioè di base uno per conoscere me il gioco in qualche modo lo deve conoscere, secondo me. Per chi vuole partecipare, scrivete a Steggec, macchinata per Padova, pochissimi posti disponibili per venire al sushi. 2, 3, 2, non c'è quanto è. Con partenza da Milano. Potrei pure venire. Immagino sia one shot. Poveretta, mi dispiace per te. Era main break e non l'ho neanche lasciato il tempo di quittare, poveretta. Cazzo, peccato. Eh sì. Una gioia di un main break, Nico. Eh niente, gliel'ho negata completamente. Ma ci stava... Cioè, ci sono ancora due... No, due. Perché la break l'ho confermata. Uno sopra New Castle, mi sembra. Cacato. No. Alla finestrella. Va bene. Oh, c'ho, c'ho, c'ho. Uno sta sotto. Il New Castle sta sopra. Uno sta qua, uno sta qua. Lo so, lo so. Ma è flash ancora, non si è curato. Ti giuro, avessi la jump, te l'avrei già fushato. Il New Castle l'ha remesso veramente male. Il New Castle l'ha remesso veramente male. Aspetta. Cazzo. Porca troia. Ho dato un interro al... Uh, buono. Vai, vai, vai. Non ho cato uno, non ho cato uno. Ora metto qua la jump. Non è qua, guarda. È sostordito però. Non posso salire ancora. Ma dura troppo, dura troppo, dura troppo, dura troppo. Voi andate, uno era noccato, eh. No, 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 no. Ho paura di altro team, sì. Sto messo di merda. No, sono in troppo. Uno è craccato. Chi è craccato, chi è craccato? Eh, GG. Dentro ci sono due craccati. Tutte e due, Mirage e New Castle. Bloody 120. Bloody fatto, bloody fatto. E' one il New Castle, tantissimo. Godo. La vedo veramente grigia. Ma tu hai fatto, o ti sei fatto il bloody dell'altro team? Eh, no. Vieni sopra, vieni, sopra, vieni, sopra, vieni, sopra. C'è uno swap, Tommy. Bloody fatto, bloody. Sopra sei pieno di swap. Stai? No, mi sa ti blocco la porta. Eh, prima no, 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 no. Stai vai alla cassa dritta davanti, ci stanno gli swap qua. Vai là. Eh, l'ho basato. L'ho qua? Sì, lo so. Mi sta arrivando sopra. Ma hai confermato il tuo? È sopra ancora. Sì, sì, sì. L'ho craccato uno e l'ho craccato l'altro. L'ho qua da me? Tira la porta, tira la porta, tira la porta. Vabbè, va bene, va bene. Sengo io, sengo io, sengo io. Ti resto, ti resto. Occhio ste. Stai qua dietro. Guarda che romperà, eh. Levati. Buono. Ti lo vado? Vai, veramente buono. Stupida. Arrivano l'altro team. Ho un Phoenix Tommy. Oh, sì, ho swappato, swappato. Ho un po' perfetto. No, probabilmente era bug audio. Mi servono robe. Aspetta. Robe? Mi servono robe. Cose. Cure, scudino, uno. Ho una cella. Sto. Sì, ho tutto quello. Arrivano, arrivano, arrivano. Mi sento. Ciao, Nico. Mi ricordo di averti conosciuto nel febbraio del 2020. Ti giuro, li ho sentiti qua, eh. Grazie per tutti i video che hai creato su Apex e noti con sorridenti. Non so, no, ora non più, ora non più, eh. Ma magari si è sollevata. Grazie, Marco. Grazie, Vorax. Grazie, Vorax. Grazie per la resub. Grazie, Marco, per la sub. Punto esclamativo Telegram. Che arriva il link in privato. Dove? Arrivo, 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 arrivo. Io non c'ero, minchia. Ma allora era lui sicuro? Quello che avevo sentito io era lui, vai. Ma ha risponato l'aprita e l'altro, sì? Arrivo. Sotto qua? Arrivo due secondi. Arrivo due secondi. Ancora, sali uno? Salgono, salgono. Salgono. Raga, mi fate fare le 20. Stai, 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 stai. Ma stai. Ah no, non l'hai ucciso. Mi fate fare le 20. Posso fare le 20, lasciatemelo. Ah, vai, 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 figlia, figlia, figlia. Dove sta? Da me, da me. Ok. Dove sta l'ultimo? È stata scappata. Eh, no, forse... Lasciamolo recuperare, lasciamolo recuperare. Concordo. Sto a 12 kill con 18 rimasti. Corriamo? Non stai che dice qualcosa? Corriamo? È incredibile. 12 kill. GG. È vero! Minchia, se faccio le 20 ore, è l'unica partita della stagione in cui non ho giocato vintage, immaginati. È vero, è vero, è vero. Trident, dove sta il Trident, figlia? Non lo senti. No, sta troppo fuori. No, da prendere, da prendere per ruotare. Ma chi? Ma chi? Ah, dice che è da sola. Ma va il Chiri? Va il Chiri? No, stanno in due, stanno in due. Te la fai, te la fai, te la fai. Vai, 20, scatta. Vabbè, la goduria, la goduria, la goduria, grazie mille. 14 top 4, easy, 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 si deve cercare, si deve cercare, si deve cercare. Forse l'ho vista il crafting, easy. Qua davanti. Ma uno è vicinissimo? Entrate in casa, se siete messi male. Stai, 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 vieni in casa. Ma cazzo stai, cazzo stai, cazzo stai, no, 210, 210, 210, 210 rosso, 210 rosso a benga 1 HP, dovete prendervela, vuoi vedere che fa. 210 rosso a benga che sta di... Buono, buono. Vai, vai, sceldo qua. Te lo blocco, stai, bravissimo. No, mi fanno, mi fanno, mi fanno 100, 100. Vieni qua, vieni qua, ti ammigo, entra, puoi entra. Che tilt. Entra, entra, entra. Eh, no, sto fai dando. Stai, mi confermi il revenant che lo gioco, che lo posso prendere questo. Eh, craccata benga, vai, ve la fate, ve la fate, ve la fate. Uh, uno l'ho preso, va bene. Però che palle potete prendere? Se non si fai tantra di loro bisogna andare su. No, sparano a noi, sparano a noi, sparano a noi. Avete Phoenix. Ce l'ho io, ce l'ho io. Tieni. Ok, vai, molto, molto, molto. Che palle, madonna, che sfiga quella... Mi sono beccato una Bangalore full rossa camperata sulle scale. L'ho fatto 210 rosso, madonna di Dio. Io spero che sparassero a noi, eh. Però non so se sta casa è safe, è meglio l'altra. E l'altra l'hanno già presa, però. C'è gente, l'altra, c'è gente. Sì, sì, l'altra c'è gente anche la palla. Che palle, non ho scudi. Andiamo per destra al tunnel. Andiamo per destra al tunnel, vai. No, c'è un altro team regal tunnel. No. Forse un solo, forse un solo. Stai devi venire. È da solo, è da solo, è da solo. Busciate, busciatelo. Stai devi fartelo, stai devi fartelo. Devi fartelo. Resta subito. Resta. Oh, devi levarti dalla cassa, Nico. Esteo, capì? Che cazzo ti devo dire? Vai, vai. Faita, fighta, fighta. Mettiti subito. Li stanno busciando. Li stanno busciando. 61 crack. Se riesci vieni verso di me ora, vieni verso di me ora. Vieni verso di me ora, subito. Provo a coprirti. Quasi one shot uno. Dobbiamo, 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 dobbiamo. Ok, le 20 non le faccio più, ma non mi frega un cazzo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sì, sì, sì. Madonna, che palle il team full G7. Eh, GG. Ma che cazzo. Sto triplo G7. Sto cazzo di triplo G7. È blu? Cosa? Ha beccato il carabinale drop. Ha beccato il carabinale drop. Che palle. Vabbè, sti cazzi. Blu. Vabbè, GG. GG. Via, peccato. 220 su 225 alla Bangalore full rossa. 220 su 225, cioè. Ma pure al blow di dopo, mi sa, tipo 220 rosso pure, boh. Io rosico per la vittoria. Io rosico per la vittoria adesso. E anche io, figa. Più che altro, questi qua, cazzo, sparano. Avevate come... A parte che... Una partita con Octane in tutta la stagione e 15-16 kill. Forse è il caso di tornarci.